Favio, grazie per noi, cosa facciate di questa partita? cosa ne pensi della partita? è la più brutta partita che abbiamo fatto da quando siamo qui è una squadra senza dignità, senza cuore, senza palle, senza nulla quindi è una squadra senza niente questo è il miglior gioco da quando sono in charge ho visto una squadra senza sangue, senza sangue, senza coraggio, senza nulla vuole da quando sono arrivato qua solo chiacchiere, solo chiacchiere poca voglia di lavorare, di fare, da oggi in poi si cambia totalmente registro non ci sa più il day off, doppio allenamento, si cambia registro perché da quando sono arrivato ho sentito molti giocatori c'è sempre qualcuno che dice tutto ma poi le capacità non sono state 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 ma non c'è più il day off durante la settimana e l'applettrazione durante la settimana che cambi farai? obiettivamente avrei dovuto cambiarli tutti quindi ho dovuto ripensare 11 giocatori oggi è possibile? l'interno è proprio aperto lo puoi fare in teoria visto che ancora c'è il cartellino vediamo quello che succederà anche in questo ma dove miglioreremo la squadra cercheremo di fare il massimo ma anche facendo questo tutti i giocatori insieme a me che sono responsabili da luglio ad oggi di questa classifica rimangono qui fino a maggio sì vediamo chi ci prenderà ma tutti i giocatori che sono qui da giulio sono responsabili per queste situazioni in giulio che rimangono qui fino alla fine della settimana è una battaglia contro la relegazione 50 punti sembra un target ambitioso è una battaglia per salvarsi perché il target di 50 punti è abbastanza difficile da raggiungere ma questo era così anche un mese fa quindi è una grande lotta e se avremo il coraggio la forza di uscirne ne usciamo tutti insieme se no affondiamo tutti insieme è davvero un grande challenge ma possiamo andare fuori solo se siamo tutti insieme e siamo abbastanza bravi per andare fuori in questa situazione un'altra positiva mi credo era Doess Henderson non lo abbiamo visto da ottobre tornando in strada tornando con il gioco una delle cose positive è stato Henderson che non era in campo da ottobre ha fatto l'asseminato l'ha fatto una buona partita è l'unica nota positiva di oggi 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 non credo che ho mai visto il rispetto di Brisbane Road come quello che ha fatto oggi non penso di aver visto mai lo stadio così vuoto come era oggi in reggio come ho detto prima io sono qui da 40 giorni oggi abbiamo toccato il fondo e mi hanno sempre insegnato che dopo aver toccato il fondo o si rimane lì o si risale dipenderà solo da noi come ho detto come ho detto a tutti i giocatori oggi abbiamo toccato il fondo e l'unica cosa che ho apprezzato in mia vita è che quando sei al fondo è che sia l'unica sia l'unica ecco bella grazie fantastico ho